Sono piante che hanno più di 100 anni e qui siamo a San Miniato qui siamo a San Miniato e qui tanti anni fa abbiamo scoperto la presenza di questa particolarissima pianta per l'Italia che è il tempranillo che conosciamo bene per essere spagnolo probabilmente tantissimi anni fa c'è stato questo scambio culturale o questa connessione probabilmente dovuta al culto cattolico quindi la via francigena ha portato qui da noi questa bellissima pianta che oggi noi possiamo ammirare su piante prefillossera su piante che ormai hanno superato i 100 anni di età più di 100 anni più di 100 anni è una un'antica strada di pellegrinaggi è un'antica strada di pellegrinaggi che attraversa tutta l'europa e addirittura raggiunge gerusalemme però principalmente veniva usata per raggiungere roma per raggiungere il papa e le persone arrivavano da tutta europa dalla francia dalla nord della spagna principalmente dal sud dell'inghilterra addirittura e oggi si collega al cammino di santiago che è la strada di pellegrinaggio più conosciuta del mondo nel nord della spagna e per questo una persona può avere portato una pianta molto probabilmente una volta si usava trasportare i semi non le piante perché i viaggi duravano tantissimo tempo e allora le piante potevano seccarsi allora si portavano tutti i semi di tutte le piante che le persone erano abituate a coltivare e anche per la vite si faceva così cioè la vite non si piantava si seminava oggi sappiamo che il seme non ci restituisce il patrimonio genetico completo e identico alla pianta madre ma un tempo non si sapeva e non era così importante per cui si trasportavano i semi i vinaccioli nel caso della della vigna e poi potevano essere o usati per iniziare una coltivazione nuova o in alcuni casi venivano usati come moneta di cambio moneta di scambio e si chiamava il baratto in italia per pagare alcuni servizi o anche solamente una notte in una locanda si potevano usare un sacchettino di semi invece che le monete in questo modo queste cose giravano per l'europa e in questo caso hanno prodotto questa questa presenza particolare qui in questa piccola zona della toscana noi siamo a metà strada tra pese firenze una una zona importante per l'agricoltura e molto bella per il terroir l'abbiamo scoperto durante una ricerca in collaborazione con l'università di firenze una ricerca che aveva come obiettivo l'individuazione la selezione dei migliori cloni di san giovese di san miniato durante questo lavoro con analisi dna è emersa la presenza di questa di questa varietà insospettabile mai conosciuta prima in italia adesso sappiamo che in toscana invece e in tempi molto remoti questo vitigno queste uve sono state coltivate in soprattutto in questa zona della toscana ma non solo san miniato anche una zona confinante con san miniato e poi pian pianino è stata abbandonata a favore del san giovese per la produzione del chianti che è la il vino più importante più diffuso in tutta la toscana adesso noi abbiamo in coltivazione nella nostra azienda 5 ettari a tempranillo tutti i vigneti riprodotti fedelmente con le gemme della vecchia vigna quindi geneticamente identici la stessa lo stesso identico tempranillo però con le uve della vigna vecchia noi facciamo una bottiglia cru facciamo una bottiglia separata da tutto il resto perché una vigna così vecchia è in grado di darci uve di una complessità completamente diversa da un vigneto giovane poche poche bottiglie poche bottiglie purtroppo però la tela la lasciamo a dimostrazione del livello qualitativo che si può raggiungere con queste uve in toscana l'altra cosa veramente molto importante per queste piante è il piede originale cioè qui abbiamo la radice europea non abbiamo il portinnesto americano perché sono precedenti all'epoca dell'attacco della fillossera anche questo noi crediamo che sia motivo di un'espressione molto molto vera e molto particolare di queste uve e infatti stiamo studiando con ancora con l'università metodi per poter ricominciare a piantare le nostre viti con la radice originale evitando però l'attacco della fillossera ciò che noi in italia non abbiamo nel nostro alfabeto l'ix da noi utilizzato per l'incognita per ciò che non si conosce per ciò a cui non possiamo dare un nome e x è stato per tanti anni il codice con cui abbiamo nominato questa pianta prima di sapere che fosse tempranillo allora poi quando ho dovuto scegliere il nome del vino ho ideato questo nome perché secondo me rappresenta molto la sua la sua particolarità la sua esuberanza la sua il suo stile x è lo stile del nostro tempranillo in toscana il vino del giorno di oggi è molto speciale perché io sto dal lato di Leonardo qui Leonardo Beccontini l'unico tempranillo che c'è qui nella Toscana il vino ha molta fruta qualche cosa anche di cogumelo una bocca di tanino ben massiva eccellente acidez e persistenza un bello vino noventa per lui si riconosce l'esuberanza la frutta la speziatura della del tempranillo e insieme alla vena acida alla finezza e all'eleganza portata dalla terra di Toscana grazie a tutti